Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. L'arrivo di Hannibal, l'alta pressione nordafricana, così come vi avevo anticipato nei giorni scorsi, sta determinando un radicale cambio di circolazione sul Mediterraneo centro-orientale, portando un sostanziale cambio delle condizioni climatiche su tutta l'Italia. Al sud poche variazioni meteo in una giornata stabile ed ampiamente soleggiata ovunque. Sulla nostra provincia soleggiamento diffuso con una giornata dal sapore nettamente primaverile e temperature comprese tra 12 e 24 gradi. Venti deboli soffriranno da est-sud-est ed il mare nel canale sarà poco mosso. Sulla zona tirrenica, giornata serena e soleggiata, le temperature si manterranno tra 12 e 22 gradi ed i venti di moderata intensità soffriranno da est-nord-est, con il mare tirreno poco mosso. Anche sulla zona ionica, giornata primaverile e soleggiamento diffuso, temperature stabili comprese tra 11 e 21 gradi. I venti di deboli intensità soffriranno da sud-sud-est ed il mare ognio sarà poco mosso. Nella giornata di venerdì 27 aprile, tempo stabile è soleggiato ovunque grazie all'anticiclone che in questi giorni sta proteggendo tutta l'Italia, portando bel tempo e temperature in aumento ovunque. Ed anche sulla nostra provincia prevalrà il sereno per tutto il giorno, con temperature sempre più calde e picchi massimi di 26 gradi ed 11 nella notte. Venti deboli soffriranno da sud-est ed i mari saranno quasi calmo il terreno, poco mosso lo ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito, appuntamento a domani!